Siamo live in questo momento. Allora, va bene così? Ehi, senti qua, va bene così? Perfetto! Dai! Patti! Dai, è il momento! Prendi il foglio. Lo prende Patti? Eh sì! Dai Patti! Prendi il foglio da dentro. Bravissima! Bravo Gianluca! Fermi tutti! Avete visto come il sole sta facendo cambiare colore al foglio? Sì! Dopodiché praticamente cominciamo con il bloccare la reazione. Come facciamo? La bandola. Non basta di tre minuti. Facciamo il conto alla rovescia. Certo! Tre, due, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno! A voi! Guardate! Fatti, fatti, guardate! Guarda la foglia! Vai a vedere la tua foglia! Guarda Davide! Vi vediamo! Ecco qua! Allora, chi è? E' l'uomo del tempo? Dov'è? L'uomo del tempo! Vai! Vai! Vai Davide! Anche tu! Vai Davide! Anche tu! Che è? La banderia della bella nella vecchia paggioria Eh, lo si canta! Lo stiamo facendo noi! Lo stiamo facendo noi! No, che non si vede niente! Ah, si vede? Lo so! Lo so! Va, Roberto! Check, ma già! Sì, sì! Roberto, non sei quanto a sinistro! Ma io sono quanto a sinistro! Non facciamo? No, 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 non tranquillo! Pasquale, basta così e andiamo avanti? Un altro più! Perché lo dici è il suo servente! Ma c'è il servente? Perché se vanno lì, me lo c'è il servente! Ovviamente! Tutto bene! Che è quella casa! E' bella! E' bella! E' bella! Dove? Già lui è passato quattro minuti, perfetto! Dove è il tavolo per appoggiarle? Lì! Sta arrivando! Hai visto la tua voglia? Ma è bellissima! E' bella! La voglia di Patrizia! Ogni tre lavaggi l'ha cambiata la mia! E' bella! E' bella! E' bella! E' bella! Allora, dov'è? Chiara! 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 Ma qua se ne vola! Mamma mia! Patti! C'è! Hai visto? Che bello! Vediamo un po'! Ehi, Arlo! Chi vuoi? Mi fa questa cuore! Allora, aspetta! Se invertiamo... E se lo fai al contrario, Fabri? Così! Vito! Così è meglio! Così è meglio! Ci saluti? Ciao! 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 Ando! A Puglio come la deve vedere la ragazza! Sera! Sera! Buongiorno! Buongiorno! Non è sera ora! Che bella! Che bella! Ma qual è? Che bella! Che bella! Vediamo! Sì, sì! Viva Pasquale! Che bella debola! Che bella debola! Che bella! Che bella! Che bella! Grazie a tutti.